Ciao a tutti! Oggi giochiamo a Ugo e gli amici 6 ok 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 e mi lascia ok allora questo questi qua sono gli ingredienti infatti ops ho sbagliato subito visto come chiedete subito nei commenti quale era allora stiamo ricominciando da capo è un joystick lo smettiamo? ora questo ok il secondo è solo dei soldi ok il quarto ormai ha capito tutto so quale sono dobbiamo aspettare che questo uccello andrà a quarto abbiamo sentito tutti no? ok il secondo ce la posso fare? si scusate allora questo è un gioco molto organizzato per me e per voi ok ti prego ma la farina infatti è per ultimo dobbiamo arrivare qua ok quindi là praticamente praticamente è questo è vero sì ce l'abbiamo fatta a bambini ok e terzo questo uccello va bene sentite la musica ti prego stiamo ancora a sti oddio ok è l'ultimo la farina è questa ce la posso fare mancava solo il primo infatti i vestiti stanno qua no sto l'ultimo gridendo in in l'ultima decorazione alleluia possiamo andiamo abbiamo trovato il topo andiamo da questa parte e io sto a spiegare ovviamente ci segue e dopo abbiamo oggi la mia fortuna c'è ma non so che ha fatto saliamo su se ne troviamo un altro bambini andiamo su perché no andare su se allora no e se ne andiamo no non so andiamo da questo lato non so che fare non so che fare una parola no sotto perché sono andata sotto bambini va bene andiamo su perché no allora andiamo qua adesso io sto guardando il computer se mi vedete devo molta creatività Ugo e gli amici questo si chiama e è un nuovo gioco cioè una parola noi ce ne andiamo e se ne basta no forse andiamo in caverna troviamo l'amico che ci serve il riccio a questo punto scusate andiamo da quell'altro lato andiamo a quest'altro e ma dai non è possibile sì e ce ne andiamo su che esercizio devo fare con gli joystick e che esercizio che esercizio Che esercizio Ma vuoi vedere che dobbiamo andare a trovare l'ultimo? Ok Amici aspettatemi Alla prossima Sola un letra madre Oh tia No mares Oh tia Oh tia Oh tia Si Perchastano ciao casino ma non sentite mi faccio prendere non mi è successo niente ancora come me la cavo non c'è no come me la cavo oh no Sì. Sì, da... Listo? L'abbiamo trovata! Ok, seguimi! Torniamo sotto, calma! Dobbiamo andare sotto, sotto! Oh no! 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 Sentite che casino ci sta! Con le cuffie! Torniamo la porta! Torniamo la porta! Il riccio! E la talpa! Quanti siamo? Oh no! Tutto indietro! Sotto! Sotto! Dobbiamo andare sotto! Sempre solto! E poi forse abbiamo trovato la casa! Questa! Infatti! Ah! Dobbiamo andare a uccidere gli animali! Anzi a spaventarli per il prossimo video! Perciò non è finito! Non è finito qui! Abbiamo... Io vado sotto! Abbiamo... Cffè! Cffè 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 sentite che casino cioè il massimo aspetta ok adesso andiamo di qua possiamo spaventare perché sono tutti capito? quindi uno, due, tre qua, ci, e se e se te o sentite ho proprio calda collo sono tre ah no, sono quattro ai 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 però noi ci ne abbiamo noi ci mandiamo sotto guardate che carino tutti seguono la fila che andiamo noi dobbiamo andare sotto infatti vedete come possiamo entrare allora la cia e la cia e Grazie a tutti. 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 Allora, dopo ci ho cercato tutti gli amici, andate ai vostri a spaventare, no? Quelli delle grotte che abbiamo visto. Quelli per i sentieri. Ci vediamo al prossimo video. Ciao, ciao!